Marta Pasqualato La storia d'amore tra Nicolò e Virginia è naufragata, e così la bella studentessa di medicina veneta ha voluto lanciare alcune velate frecciatine al 23enne siciliano. Dopo la conferma della fine della storia tra la Stabium e Nicolò, Marta ha condiviso due foto su Instagram molto eloquenti. Inquadrando due paesaggi diversi la Pasqualato ha scritto. Capirai chi sono solo dopo avermi perso e ancora. Io stasera sorrivo e tu? I due riusciranno a riavvicinarsi. In realtà al momento la giovane sta frequentando Nicolò Ferrari ex corteggiatore di Neilu Faradati. Dalla sfortuna di non essere stati scelti entrambi, troveranno una complicità che va al di là della semplice amicizia? . . . . .